Mi chiamo Cucina Adelina del punto di vendita Regale Adele di Faicchio di Benevento. Faicchio è la provincia di Benevento di 4.000 abitanti, ha il castello come sede di riferimento perché è molto importante e i cittadini sono persone molto umili e tranquilli. Il mio punto di riferimento della vendita Grispo è da tutte le zone, non solo Faicchio ma neanche nei tindorni, da Gioia, da Telese, da San Salvatore, Piedimonte Matese, dappertutto. Allora il mio punto di vendita più importante è per le mamme che vengono per i bambini per comprare i confetti, per confezionare, per fare inascite, soprattutto le nascite, poi le comunioni, le cresime, i matrimoni alternati quando vengono perché ce ne sono meno. Poi vengono a comprare i confetti per fare le confettate per i ristoranti che si rivolgono sempre per comprare un tot di confetti per la qualità Grispo e per il prezzo soprattutto. Io sono pridivenditore Grispo da 16 anni ma il negozio l'ho rilevato 16 anni fa, già è aperto da 45 anni. Sempre Grispo. I confetti Grispo li uso soprattutto per mangiarli perché mi piacciono. Cominciamo a offrirli ai clienti perché ne mangiano tantissimi e poi confeziono le bomboniere, li uso per, fanno regali per le nascite, fanno regali per le promesse, fanno regali per i confetti per tutte le occasioni. Soprattutto faccio le bomboniere per il matrimonio, per i bambini, per tutto quello che serve. I prodotti Grispo più regressi non esistono perché preferiscono tutti, dal piccolo al grande, dalla lentina fino al promesso sposo, lo snob o le siri serie euro. Non c'è preferenza, piacciono tutti i confetti. Quello che a me piace di più è la marena. Consiglio Grispo per la sua scelta vasta che ha, per la serietà che ha la ditta, per la qualità e per il prezzo.